e bentornati sul canale. Allora, oggi vi voglio presentare un video a cui tengo particolarmente. Allora, per chi mi segue su Facebook avrà visto che ho partecipato come fotografo ufficiale a una convention molto importante che è la Roma Fashion Doll Convention, appunto, che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma. A questa convention, che è sponsorizzata da La Mattel, ha partecipato anche un designer americano, Carly Noera, che ha disegnato e creato la maggior parte delle fashionistas che sono uscite nel corso degli anni, nonché anche molte collector. Lui, fra l'altro, persona stupenda, squisita, ha anche ideato una nuova linea di Barbie, le BMR 1959, ma novità assoluta è che questa linea, all'interno di questa linea, ci sono due can e per la prima volta c'è un can snodato, completamente snodato, un can made to move, con la versione maschile del corpo made to move. Fra l'altro, la cosa particolare è che uno dei due ha anche il viso truccato, un po' queer, un po' metrosexual, quindi è una figura maschile, però con il viso truccato, un po' truccato, con rimel, l'ombretto, eccetera. L'altro maschietto, invece, che vi voglio presentare, voglio fare l'unboxing con voi stasera, è molto bello, a me piace, sinceramente piace molto, in realtà anche il suo abbigliamento, che è molto underground, street, è molto molto attuale, non è piaciuto a tantissimi, ma la bambola in sé è davvero molto carina. Fra l'altro, io ho avuto modo di vederli dal vivo, in esclusiva europea, durante la mostra, appunto, dedicata a Carly, erano presenti queste bambole della linea BMR 1159, che ho avuto l'opportunità di fotografare, vedete tutte le foto anche su Facebook, sia sulla mia pagina, Luca Infelentini Fotografe, o su Leo Dolls, mi raccomando, seguitemi, ma anche e soprattutto nel gruppo Roma Fashion Doll Convention. Fra l'altro, appunto, io ho avuto la possibilità di vederli dal vivo, ma anche di ottenere questa fantastica bambola, che fra l'altro mi ha, c'è il gatto che vuole entrare, adesso fa il giro, che mi ha addirittura autografato di persona Carly. Io avevo deciso, in realtà, di non aprire questa bambola, ma di acquistarla su Amazon. Fra l'altro, in America, costano pochissimo, se non ricordo male, costano 29 dollari. Da noi, per adesso, si trovano su Amazon intorno ai 33 euro, sempre un po' di più, però un prezzo veramente accettabile, soprattutto per la tipologia di bambola. Ripeto, appunto, me l'ha firmata e dedicata a Luca Carly, con i tre cuoricini, è stata una personale splendida. Avevo deciso di tenerlo così, ma in realtà non ce la faccio, devo aprirlo. Allora, la scatola, fra l'altro, è molto particolare. Il compagno di Carly, il partner, ha ideato questa scatola come se fosse una scatola di scarpe. Lo vedete che assomigliano a una scatola di cartone, di quelle che si aprono dove, appunto, vengono custodite le scarpe quando vengono acquistate, con la velina. E all'interno c'è il bambolo, eh? Molto, molto carino. Io direi che, però, lo apriamo insieme, perché lo voglio far vedere a tutti quanti, appunto, per come è in realtà, e quindi lo apriamo insieme. Allora, ogni volta è sempre complicatissimo fare questa cosa, neanche se le bambole scappassero, fuggissero nottetempo, ma la mattella fa in modo tale che le bambole vengono completamente sigilate. Vabbè, comunque, la prima parte l'abbiamo tolta, perché abbiamo tolto la parte centrale interna della scatola. Adesso andiamo, in realtà, forse più semplice di quello che pensavo, non lo so. Vediamo di non andare a far danni. Fra l'altro, questo Ken ha anche la capigliatura, ha anche i capelli, una pettinatura anche qua, abbastanza moderna, con lo chignon in testa. Io lo chiamo il samurai, perché fa un po' ridere, no? Con questa pallottola di capelli sulla testa. Ripeto, per quanto mi riguarda, è davvero molto carino. Anche la tipologia di vestiario a me piace. Io poi, comunque, le bambole le spoglio, ci gioco, le rivesto. Cioè, non mi piace tenerle in scatola, quindi lui poi verrà cambiato appena troverò degli abiti. Perché, in realtà, credo di essere abbastanza sprovvisto di abbigliamento maschile per Ken. Però, appena trovo qualcosa di carino, qualcosa che possa andar bene, comunque, per l'idea del personaggio che mi sono fatto di lui, li cambio, ovviamente, l'abito. Però, per adesso, sicuramente diverse foto le farò con il suo vestiario normale. Allora, ok, ci siamo. Piccola nota per il piedistallo. La base, c'è BMR 1959 disegnato sopra. Questo è il nome della nuova linea che Carly ha scelto in onore, ovviamente, del 1959, quando è stata ideata Barbie. Allora, eccolo qua. Devo dire, la verità, è carino, veramente. Molto particolare. Ah, fra l'altro, nella scatola ci sono anche gli occhiali di plastica che non ho rimosso. Allora, lui ha un marsupio, molto carino, di plastica. Devo dire, la qualità dei materiali, rispetto agli ultimi standard della Mattel, è abbastanza buono. Non è eccelso, però, dobbiamo ricordare anche che viene venduto a un prezzo veramente molto basso. Però, è davvero carino. Cioè, si vede che c'è una cura dei dettagli. Fra l'altro, non ho modo di farvelo vedere nel video, perché le foto le ho sul computer, ma lui ha fatto proprio tutto uno studio sul corpo a Roma. Durante la convention ci ha fatto vedere le slide con il lavoro del prototipo del corpo che è stato fatto su di loro, ma anche su tutto l'abbigliamento. Ci ha spiegato come sono state ideate le scarpe, da dove lui prende spunto. Quindi, c'è effettivamente un grosso lavoro di ricerca e di studio dietro, per poi creare appunto un qualcosa che possa interessare a noi collezionisti. Allora, io, ripeto, voglio spogliarlo, perché voglio farlo vedere insieme a voi, perché la cosa particolare è soprattutto il corpo, perché appunto ha un corpo completamente snodato, quindi assolutamente va fatto vedere il corpo. Ecco qua. Beh, ragazzi, comunque, ripeto, è abbastanza leggero, eh. Devo dire la verità che visto così sa un po' di... Però guardate, io adesso non ho modo di farvelo vedere, se non forse facendo un po' così. Quindi, cioè, l'ho appena appoggiato sul tavolo, è stato in posa. Quindi, a livello di stabilità, ecco, adesso magari, ok? A livello di stabilità, perfetta, immediata, subito. È comunque molto carino. A prima vista ci sembra un qualcosa di assolutamente carino e armonico. Fra l'altro, lui ci ha raccontato che ha fortemente voluto creare delle nuove mani per Ken con le dita separate. Vedete? Le dita sono separate, quindi per renderle anche un po' più realistiche. Il viso è comunque un viso particolare, carino. Guardavo la... Come è stato messo anche... Guardate la capigliatura. No, no, comunque la cura dei particolari c'è assolutamente. Il viso, fra l'altro, è stampato bene, ha un bel dettaglio. Io, ripeto, sono davvero molto contento. Sono molto soddisfatto. Sicuramente ne prenderò un altro. Questo, ripeto, non lo volevo aprire, ma non ce la facevo ad aspettare. L'ho aperto. Però, con la paura che magari possano aumentare i prezzi, io molto probabilmente ne prenderò un altro. Ecco qua, guardate. Le braccia si piegano completamente. Carlay ce l'ha fatto vedere in tutte le pose possibili e immaginabili. Quindi, vedete, assolutamente l'ha messo in tutte le pose. Questo braccio è un po' più duro. Ho un po' più paura nel... Ecco qua. Sono una questione che la plastica è un po' dura. Però ci ha fatto vedere che, appunto, poteva fare delle cose carine. È un po' timido. È un po' timido perché, ovviamente, è nudo. Quindi è un po' timido per farsi vedere. Però, ripeto, è davvero una cosa bella, innovativa. Siamo molto contenti, noi collezionisti, che finalmente la Mattel sta prendendo una posizione molto forte perché sta rispecchiando, ci ha fatto vedere anche nelle slide, Carlay, che sta rispecchiando molto gli usi e i costumi dei ragazzi giovani. Quindi a noi ci fa veramente molto, molto piacere. Vabbè, io ci tenevo a farvi vedere assolutamente in anteprima lui. Vi ricordo che lo trovate su Amazon in arrivo verso la settimana prossima. Probabilmente Amazon inizia a spedirli. E con questo vi saluto. Alla prossima!